ciao ragazze benvenute o bentornate nel mio canale questo sarà un nuovo video dei top e flop ci saranno anche dei prodotti nei quindi cioè prodotti che mi sono piaciuti ma non tanto da promuoverli a pieni voti diciamo così quindi prima di iniziare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella l'anello che si gira sempre attivando la campanella commentate lasciatemi un like e se vi va seguitemi anche su instagram anche se non sono molto presente lo so devo ancora capire bene come funziona instagram non sono molto social comunque se vi va seguitemi anche lì sono puccetta 90s allora il primo prodotto che promuovo è questa maschera di tiger ma più che altro per il suo prezzo veramente risorio costa intorno alle 2 euro e 53 euro massimo questa promette idratazione è sola metà faccia come potete vedere tipo forma di panda molto carina si presenta in rosa anche la profumazione non è male è gradevole non è tantissimo idratante per un tipo di pelle come la mia che comunque una pelle mista tendente grassa però comunque per il prezzo veramente bassissimo io ve la consiglio provatela fatemi sapere cosa ne pensate poi un altro prodotto che promuovo veramente a pieni vuoti è sempre di skin care tra virgolette è questo panno il makeup eraser è un panno rosa per struccare praticamente microfibra così si presenta così veramente ottimo strucca veramente benissimo il trucco in più potete anche lavarlo in lavatrice non non si disintegra veramente promossissimo raga cerco di essere velocissima in questo video perché se no youtube mi fa scherzette quindi mi taglia il video quindi vabbè un altro prodotto top che quindi promuove questo smart hydro shot stick sempre nomi lunghissimi e della linea smart quindi costa veramente poco intorno alle 6 7 euro e con i saldi arriva anche a 3 4 euro e questo stick io l'ho finito praticamente devo solo buttarlo e questo promette idratazione e si mi dà abbastanza idratazione infatti per questo lo promuovo non mi convince tantissimo per la profumazione non mi piace però quello è un fatto sempre soggettivo per quanto riguarda la profumazione nei miei makeup o nella skin care in generale mentre invece ho notato che l'ho provato anche sul viso perché qui dice anche da sia per il viso sia come contorno occhi come contorno occhi vi ho già detto che mi piace idrata abbastanza ma sul viso non fa nulla noto che su di me sul mio almeno sul mio tipo di pelle non fa nulla però come contorno occhi ve lo promuovo anche per il prezzo che comunque è molto molto basso promosso poi come rossetti liquidi tra tutti quelli che ho in assoluto quelli che adoro che amo alla follia sono loro il melted, the too faced che ne ho di varie colorazioni e le meblin che ne ho veramente tantissime questo in particolare il 120 ho preso uno a caso anche questo è band e snap molto molto validi questo di too faced è proprio un effetto velluto sulle labbra non dà fastidio e dura veramente tanto ve lo consiglio costa tanto costano tanto sui 23-24 euro su sephora ma ne vale veramente la pena provateli se avete l'occasione di prenderli ve li consiglio questi di meblin si sentono un po' di più molto di più al tatto sulle labbra sono più appiccicosi però questi durano tantissimo sono tra i rossetti attualmente in commercio con la durata più eccelsa di tutti quando voglio andare sul sicuro io prendo sempre indosso sempre l'oro quindi per me entrambi proprio il top del top invece come rossetti stick sto amando tantissimo questi di Kiko della linea velvet passion questo è il 316 se mette a fuoco non vuole mettere a fuoco comunque credetemi sulla parola questo è tra l'altro anche uno degli ultimi colori che ho acquistato ultimamente questi comunque stesso del nome velvet veramente sono velluto sono rossetti matte ma molto confortevoli non vanno nelle pieghe veramente ottimi non ve li sentite proprio sulle labbra questi proprio consigliatissimi anche per il prezzo che comunque stanno sulle 6 euro quindi non tantissimo quindi anche questo promossissimo poi finiamo con i prodotti top per le labbra quest'ultimo top non me l'aspettavo ma invece mi è piaciuto è questo di NYX che in realtà è un lip gloss coprente comunque full color sta scritto quindi sì e questo che ho io è lo 07 non so perché non mette a fuoco vabbè niente non vuole collaborare scusatemi il telefono comunque questo è un bel colore lo si può anche vedere oltre a fatto anche del packaging molto bello questo tappino così devo dire questo lip gloss mi ha sorpresa in positivo è veramente super super scrivente super super colorato sulle labbra non è tantissimo appiccicoso è diventato il mio lip gloss preferito e ho intenzione di acquistare anche altre colorazioni di questo poi un altro prodotto che promuovo è l'immancabile instant anti age di Maybelline famosissimo correttore l'unica pecca a parer mio è il packaging perché poiché è fatto con questa spugnettina qui questo è già secondo che acquisto il primo che acquistai quando mentre lo stavo utilizzando si è proprio rotta la spugnetta non credo di metterci tanta forza quando lo applico comunque a me mi si ruppe la spugnetta quindi diciamo che per me è un po' da rivedere il pack però è un buon prodotto si sfuma facilmente questo che ho io nella colorazione light perché sono fantasmino vabbè dettagli non va nelle pieghe e mi piaciucchia mi piaciucchia abbastanza poi un blush che mi piace tanto è questo di Essence il matte touch blush nella colorazione 20 io questo non so sinceramente se esiste ancora o se l'hanno tolto dal commercio è da un po' sinceramente che non acquisto da Essence ma volevo farvelo vedere perché è veramente tra i miei blush preferiti questo è il colore super super scrivente che adesso non vedrete proprio niente come al solito non si vedrà niente è veramente super scrivente facile proprio da sfumare da applicare molto molto bello quindi ve lo consiglio mentre un illuminante top del top è questo famosissimo di The Balm il Mary Lou Manizer questo che dire parla da solo ragazzi fanno bene a parlarne tutte su YouTube veramente molto molto bello io non ce l'ho da tantissimo tempo guardate che luce è oro colato molto 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 bello oltretutto dura anche un sacco su di me quindi per me è un topissimo infine l'ultimo prodotto top è lei la famosissima palette Naked Heat di Urban Decay che adesso così non riesco a farvela vedere perché è abbastanza lunga i colori sono questi molto belli molto caldi super super scriventi è diventata la palette del mio cuore attualmente la sto utilizzando tantissimo gli unici due colori che forse forse avrei evitato se l'avessi creata io sono proprio i primi due che essendo molto molto chiari io avendo la pappebra scurissima si notano veramente poco su di me compreso questo qui il primo che dovrebbe essere un ombretto luminoso ma tanto luminoso secondo me non è però a parte questi due colori primi la palette è molto molto bella super scrivente sfumabilissima quindi ve la promuovo anche se costa abbastanza 53 euro però ve la promuovo veramente un'ottima palette finiti top adesso raga iniziamo con i prodotti Nii primo prodotto Nii è questo lip balm di Kiko io ho questo qui nella colorazione 01 al cocco profuma di cocco e si si sente abbastanza il cocco anche se non eccessivamente l'ho usato fino all'ultimo praticamente sì è vratante però non mi ha colpito in quanto essendo un lip balm molto molto oleoso ho proprio la sensazione di avere dell'olio sulle labbra cosa che non mi fa impazzire e quindi per questo motivo diciamo è stato un po' un prodotto di amore e d'odio per me quindi diciamo che un rimandato non è un promosso a pienissimi voti lo rimettiamo anche a posto poi matita per sopracciglia di essence questa qui è la 02 brown questa qui è una buonissima matita anche lo sfumino si sfuma devo dire costa veramente poco 2 euro e 53 euro quindi per chi non ha possibilità di acquistare make up high cost oppure per delle ragazzine che si stanno approcciando al make up io la consiglio questa qui solo che non la promuovo a pieni voti perché ha la classica mina matita e non è per niente facile ridisegnare le sopracciglia con questa perché non è precisa quindi io avendo le sopracciglia la coda delle sopracciglia la codina invisibile praticamente devo andare a ridisegnarla e con questa non sono mai abbastanza precisa e per questo motivo anche lei rimandata un altro prodotto per me è questo qui famosissimo mascara di essence l'I love extreme per me è un ni perché sì mi dà volume infatti come c'è scritto qui promette quello che c'è scritto è un prodotto ovviamente low cost solo per il fatto che è low cost ve lo consiglio però avendo io le ciglia né folte né incurvate questo mascara non mi dà curvatura le ciglia non so come spiegare mi dà un po' di volume però se non utilizzo il piegasciglia non è cioè in poche parole non è il mascara ecco dei miei sogni non è il mascara per me della vita mi dà solo volume e nient'altro quindi è un mascara da utilizzare tutti i giorni ma non per eventi importanti ecco quindi è un i è un i anche questo eyeliner di NYX l'epic ink eyeliner anche questo famosissimo sul web e è molto scusa ecco è nerissimo però non so se vedete purtroppo lo mette a fuoco c'è un un pelucchio insomma del stesso della setola del pennello e è questo motivo che non me lo fa amare perché non mi fa essere ultra precisa per via di questa puntina e quindi diciamo che non me lo fa amare tantissimo questo eyeliner è un eyeliner che consiglio ovviamente a chi già ne fa un uso da tanto tempo di eyeliner se no ve lo sconsiglio perché bisogna essere molto pratiche secondo me nell'utilizzo di questo prodotto qui ultimo prodotto nì è questo rossetto di nabla ahimè questo è il famosissimo domina questo è del nì perché io anche pantarei che è un nude che amo però il nude è molto più portabile mentre questo di meno ma per me è un nì più più che altro per la formulazione rossetto perché è veramente cremoso è burro però io queste di queste tonalità così scure io preferisco qualcosa di un po' più matt che sta lì che sia lì fermo mentre questo qui purtroppo migra io questo qui sono sincera volevo regalarlo nell'ultimo decluttering però mi sono detta no è Nabla mi piacciono tante loro colorazioni infatti è più il lavoro e acquistane di altri magari mi sto più sui nude però scusate sono un po' raffreddata dicevo che però i colori scuri per me sono abituata anche ai rossetti liquidi colori scuri li sconsiglio mentre ci sono tanti tanti nude veramente molto belli questo ovviamente lo tengo e cercherò di finirlo quest'inverno adesso arriviamo proprio ai floponi ai prodotti che io boccio proprio per me ad occhi chiusi e ops scusate e il primo prodotto di skin care cioè l'unico prodotto di skin care è questo qui questa maschera express idratante di questa marca qui francese questa qui me l'ha mandato a mensile dalla Francia ne avevo due confezioni questa è ancora sigillata veramente sigillata mentre l'altra l'ho regalata mamma ma me questa maschera mi ha fatto veramente dovuto sciacquare immediatamente perché mi ha fatto il viso rosso mi ha infiammato proprio il viso infatti nell'inci non è proprio c'è il dimeticone c'è anche l'alcol se non sbaglio che adesso non riesco a leggere bene comunque io ve lo sconsiglio se avete una pelle ultra delicata come la mia state alla larga proprio da questo prodotto poi un prodotto che boccio ma non tanto per il prodotto in sé ma per il packaging sono questi rossetti matitoni proprio i matitoni rossetto io li boccio semplicemente perché vedete adesso questo qui l'ho consumato l'ho usato abbastanza e non ha più la punta è diventato tondo mentre invece appena acquistati tipo questo di Debbie vedete all'inizio si presentano così comunque con un po' di punta e poi man mano che vengono utilizzati diventano tutti tondi infatti questo c'è un progetto smaltimento e questo tipo di rossetti non fanno per me perché avendo le labbra a cuore insomma barchetta non so come le definite io devo andare a ridisegnare un po' l'angolo esterno del mio labbro superiore e con questa tipologia di prodotto non riesco ad essere ultra precisa è un po' tipo come la matita di essence per le sopracciglia che vi ho citato prima quindi per questo motivo questa tipologia di prodotto matitone non le acquisterò proprio più perché non fanno al mio caso poi un altro prodotto labbra non so se l'avevo già messo nel video precedente di top e flop comunque lo rimetto di nuovo è questo NYX liquid suede metallico però io ho questo qui numero 34 è un bel colore fucsia veramente molto bello instagrammabile da farci le foto e tutto però questo anche solo parlando va via pezzi ve li trovate ovunque c'è prodotto bocciatissimo di NYX veramente un floppone assurdo in più puzza di chimico infatti mi sa che l'inci fa veramente pena super super bocciato che dire non ho più niente da dire proprio di questo prodotto non acquistatelo sconsigliatissimo altri rossetti liquidi che non mi piacciono sono questi qui di Wicon i famosissimi long lasting e qualcosa anche questi nomi troppo troppo lunghi ne ho presi due a casa ma ne ho anche altri questi semplicemente perché sono ultra ultra liquidi cioè sono talmente liquidi che sono vedete non sono coprenti dalla prima passata niente non si il telefono vuole proprio ragionare vabbè comunque non sono super super coprenti bisogna fare tre a volte anche quattro passate però poi facendo troppe passate poi vi infuri un pastrocchio un qualcosa che vi sentite poi tanto tanto tirare sulle labbra e mi voglia di toglierli veramente una cosa assurda non so se li abbiano riformulati ma in questo caso hanno peggiorato solamente le cose è un prodotto che sicuramente non acquisterò più bocciati poi un prodotto che boccio è questa mini size del cha-cha tint di benefit infatti molte l'hanno bocciate sul web e capisco anche il perché meno male che questo è stato un campioncino di sephora quindi non l'ho pagato perché praticamente io l'ho provato in entrambi i casi è un prodotto multiuso che può essere utilizzato sia sulle guancia che che sulle labbra sulle guancia cioè come si può anche vedere disomogeneo non si sfuma si io adesso devo struccarlo immediatamente perché se no fa macchia cioè fa macchia subito si ha aggrappato la pelle infatti vedete mi è rimasto già il segno e macchia la pelle tantissimo io odio i prodotti soprattutto poi sul viso tipo come in questo caso l'avevo utilizzato sulle guancia come blush cioè aveva macchiato le guancia e odio odio profondo per questo e questo va subito declatterato praticamente comunque bocciatissimo un altro prodotto che boccio è della makeup revolution questo illuminante grandissimo di 8 grammi sarà della linea skin kiss questo si chiama ice kiss anzi no sono 14 grammi ragazzi ho pagato tipo 5-6 euro però già vederlo così sembra molto molto bello luminoso che comunque da cellulare non si capisce nemmeno più di tanto però è un ammasso di glitter si sente sulla pelle mi enfatizza comunque di scromie sul viso cioè è solo glitter non ha colore io non amo questi tipi di illuminanti quindi per me è assolutamente un no poi un prodotto che ahimè boccio ma che sul web ho sentito molti pareri invece positivi è questo ombretto in stick di Kiko questi qui famosissimi io lo 05 colore molto molto bello un rosa marrone molto bello a tutti i giorni che infatti lo sto terminando è rimasto veramente pochissimo però io questo qui raga ve lo boccio perché per chi ha come me la palpebra grassa oleosa questo tipo di prodotto va nelle pieghe immediatamente fa un brutto effetto da vecchia praticamente che fortunatamente non lo sono ancora quindi fa veramente un brutto effetto già solo a vedersi sull'occhio quindi prodotto bocciatissimo un prodotto che non mi piace ovvero per tutti i giorni va anche bene tipo per fare una spesa una cosa del genere va anche bene però per delle occasioni assolutamente no è questo fondotinta della Rimmel questo promette medium coverage che per me assolutamente no per me è una coprenza medio-bassa sinceramente quindi non promette quello che c'è scritto in più comunque tanto poco non costa tipo 17 euro l'ho pagato e no per me un fondotinta deve essere un pochettino più coprente e questo non non è a caso mio non è quello che io cerco nei fondotinta quindi per me è un bocciato come un altro bocciato è questa palettina di revolution dei correttori ultra cover and concealer vabbè come potete vedere le ho utilizzate abbastanza tante cialde le ho proprio terminate tutta non fateci caso queste due sono troppo troppo scure per me quindi non le andrò mai a utilizzare però la boccia perché sono correttori che mi vanno nelle pieghe per di più per giunta mi fanno anche delle brutte striature sotto gli occhi non capisco perché non sono niente di che ci sono in commercio tanti altri validi correttori anche magari low cost però che non sono questi quindi questi io vi direi di schipparli insomma di non acquistarli ultimo prodotto flop per questo video è questa cipria di essence la all about matte che io fino a poco fa ho amato questa è tipo la quarta quinta confezione che acquisto questa è l'ultima che possiedo però poi non le acquisto più perché mi sono resa conto che questa cipria soprattutto sotto il contorno al contorno occhi sul contorno occhi miscurisce correttori quindi credo che sia proprio colpa di colpa sua miscurisce correttori quindi mi fa avere un colorito grigiastro sul contorno occhi che assolutamente non mi piace e quindi non acquisterò più per me bocciata ultimo prodotto flop è questo l'eyebrow gel di essence io ho la colorazione 01 brown e poi c'era la 02 per le bionde questo sto facendo veramente fatica a consumarlo a terminarlo non so nemmeno se ci riuscirò mai perché è un prodotto che proprio non mi piace fa un effetto tatuaggio un effetto non naturale alle sopracciglia assolutamente no per di più se cercate se volete cercare di sfumarlo con questo non si riesce perché si trascina via il colore è impossibile già solo ridisegnarle le sopracciglia con questo con questo potete soltanto colorarle basta però appunto per questo motivo non mi fa un effetto naturale quindi io cerco invece un effetto naturale un effetto che vedo non vedo sulle sopracciglia e questo non mi piace proprio assolutamente quindi anche questo super super bocciato e niente ragazzi il video termina qui noi ci vediamo al prossimo video vi mando un bacione alla prossima ciao